Scoperto un laboratorio artigianale di droga a Cutro, un arresto. Sanità si tiene di protesta davanti alla cittadella regionale, no all'autonomia differenziata. Presentato a Catanzaro da Lega Ambiente, dossier sui comuni ricicloni. Sarà inaugurata il prossimo 10 marzo la ciclo pedonale Valdinetto. Salve e ben ritrovati con l'informazione di Calabria TV. Proseguono le indagini sugli atti di criminalità che hanno interessato il Vibonese nelle ultime settimane. Le rassicurazioni del questore. Ovviamente non è bastata la fiaccolata di sabato per stemperare la tensione che resta alta a Cessaniti, Pannaconi e dintorni. Dopo le ultime intermediazioni che non hanno risparmiato la Chiesa, i sacerdoti e persino il Vescovo della Diocesi, Monsignor Attirio Nostro, così come figure impegnate nell'associazionismo come la Presidente dell'Associazione Crisali di Robina Candela, desinatari anche lei di una lettera con minacce di insulti, come è accaduto anche al commissario del Comune di Cessaniti, Sergio Raimondo. Le indagini sono seguiti innanzitutto dai carabinieri della stazione di Cessaniti che hanno raccolto le denunce supportate dai militari del Comando Provinciale di Vibo Valencia. Tutti gli impianti di videosorveglianza di Cessaniti, Pannaconi e dintorni vengono studiati e visionati nel tentativo di scoprire qualche particolare utile. Intanto, per Don Felice Palamara, destinatario di lettere con insulti e minacce, prima, poi dal danneggiamento della propria auto e da ultimo del versamento di candeggina nelle ampolle dell'acqua e del vino durante la celebrazione della messa, è scattata la vigilanza radiocontrollata e altre misure. Le forze dell'ordine non stanno lasciando nulla dal caso e si è a fiducia che i risultati non tarderanno ad arrivare grazie al lavoro capillare degli investigatori, come conferma il questore di Vibo Valenzi. Le indagini sono in corso, ci sono le attività da parte della Procura, delle forze dell'ordine, dei carabinieri che sicuramente porteranno delle risposte su questa situazione. La cittadinanza, devo dire, che in questo momento, dopo tutte le operazioni che ci sono state, dopo tutte le attività svolte dalla Procura Ordinare e dalla Procura Distrittuale, chiedo che possa veramente fare quel passo oltre e capire di rimpossessare, riappropriarsi del territorio e delle attività economiche del territorio, perché in questo momento è il momento buono sulla base delle attività svolte dalle forze dell'ordine e dalle procure. Un vero e proprio laboratorio artigianale per la produzione e lo stoccaggio di eroina è stato scoperto a Cutro, dagli agenti della squadra mobile con l'aiuto del nucleo cinofili di Vibo Valencia e in particolare dal cane antidroga Digos. L'attività illecita sarebbe riconducibile ad un 24enne di nazionalità albanese, peraltro irregolare, residente da qualche tempo nel paese. All'interno della sua abitazione infatti sono stati rinvenuti, nascosti sopra un armadio, tre panetti di eroina per un peso complessivo di 1,6 kg. Il tutto è stato sequestrato dai poliziotti che hanno tratti in arresto il giovane con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio, trasferendolo al carcere di Crotone. La salute è un nostro diritto, questo è il grido di protesta dei cittadini della Valle dell'Esero davanti alla cittadella regionale a Catanzaro contro l'autonomia differenziata. Noi principalmente siamo per la richiesta di una sanità qui nella Valle dell'Esero perché non esiste. Con l'autonomia differenziata sicuramente ci saranno ripercussioni peggiori per quello che è già la nostra sanità. Dal 2001, sono 23 anni, si chiedono i LEA, i livelli essenziali di assistenza e ancora non siamo riusciti a raggiungerli. Figuriamoci adesso con i LEAP cosa dovremmo fare, che sono direttamente con le risorse della regione. Noi non vogliamo assistenzialismo, siamo pure orgogliosi come cittadini calabresi. Non è che dobbiamo essere sempre assistiti da Roma, assolutamente, però così non andremo da nessuna parte, andremo a finire nelle casse da morti, quello è il nostro futuro. Le firme le abbiamo già raccolte prima, le abbiamo già mandate anche prima le firme, però non abbiamo mai avuto la possibilità di chiedere un confronto. Non è che dobbiamo chiedere chissà che cosa, non è che stiamo cercando l'impossibile, vogliamo soltanto un confronto per vedere quale sarà il nostro futuro adesso alla luce anche di questa autonomia differenziata, che cosa intendono fare, visto che sono d'accordo, sono parecchie le strutture e anche le ecclesiastiche che non sono d'accordo per l'autonomia differenziata in Calabria, perché non è possibile avere un'autonomia differenziata con le risorse che abbiamo noi, non le possiamo gestire così. Siamo qui per sostenere l'iniziativa promossa dalla Petizione Popolare, che è un gruppo di cittadini dei nostri comuni che rivendicano con forza il diritto alla salute. San Marco aveva un ospedale, che è stato chiuso per effetto del decreto 18, doveva essere riconvertito in casa della salute, doveva diventare ospedale di comunità, ad oggi c'è solo deserto. Quindi siamo qui per chiedere che i progetti che sono in itinere e per i quali vi sono anche cospicui finanziamenti vengano realizzati, vedano la luce, perché nelle risorse stanziate c'è anche l'acquisto di apparecchiature che potrebbero alleviare i disagi di tanti cittadini che vivono in un comprensorio che è stato privato di un presidio importante e al suo posto non è stato restituito nulla. Si svolta alla Mezzia Terme la conferenza dei membri della Delegazione Calabria al Congresso Nazionale di Forza Italia. Il risultato è importante perché credo sia utile a conferire ulteriore autorevolezza dal Governo regionale e la Calabria ha bisogno di un Governo regionale autorevole perché ha bisogno di farsi sentire sempre di più dal Governo nazionale. Devo dire che negli ultimi due anni credo che il Governo regionale sia stato molto ascoltato dai governi nazionali. con questo ulteriore riconoscimento credo che lo sarà ancora di più. Francesco Cannizzaro è uno straordinario organizzatore e anche un ottimo motivatore per cui ho accettato il suo invito di partecipare a questo incontro perché abbiamo appuntamenti importanti come le europee ed è giusto che i dirigenti locali del partito abbiano la possibilità di confrontarsi col Presidente della Regione che è comunque un dirigente nazionale di Forza Italia. Io sono portato a occuparmi di più dei problemi amministrativi, significa che da qui in poi, come giusto, dovrò occuparmi un po' anche del partito. La corsa soprattutto sul centrosinistra e su quegli elettori di centrosinistra che non si sentono rappresentati da una coalizione che non ha più elementi moderati al loro interno e quindi noi facciamo la corsa soprattutto su quegli elettori perché vogliamo essere il partito del centrodestra che per riformismo, per moderazione riesce a portare nel centrodestra elettori e voti che altrimenti il centrodestra non avrebbe. Poi è chiaro, siamo una squadra, ogni giocatore della squadra spera di fare il migliore in campo, anche Forza Italia lo spera. Abbiamo lavorato bene in questi congressi, adesso siamo qui credo per affermare che la Calabria questa volta è stata premiata nel partito e c'è la volontà di andare avanti. Poi le elezioni che arriveranno saranno sicuramente uno spartiacqua sia per il centrodestra che per il centrosinistra, ma anche nel centrodestra ho visto che c'è una competizione molto agguerrita fra le varie anime che lo convongono, quindi penso che Forza Italia faccia la sua parte. Lo è stato all'elezionale, lo sarà anche all'europeo il primo partito. Naturalmente è un posto conteso e anche altri partiti insistono per prendere più voti di noi, ma io penso che con questa squadra, con questi bravi dirigenti il risultato arriverà. Di ritorno da Roma con un grande e straordinario successo per Forza Italia-Calabria perché il riconoscere a Roberto Chiuto che è anche il nostro governatore, la vice segreteria nazionale è un fatto assolutamente straordinario, anche per la Calabria perché come diciamo sempre, spesso e soprattutto nell'ultimo periodo, più forte è Forza Italia e più forte sarà la Calabria e questo sta anche nei fatti. È un riconoscimento a Roberto Chiuto per la sua storia nel partito, per la sua attività parlamentare, ma anche direi un riconoscimento per tutta la classe dirigente calabrese di Forza Italia che ci sta facendo sentire orgogliosi di essere calabresi perché i risultati che oggi il governo della regione sta ottenendo sul piano regionale è figlio e frutto di un lavoro incessante del Presidente, ma vorrei ricordare che è figlio e frutto anche di un lavoro incessante di maniera assolutamente sinergica dell'intera classe dirigente, vuoi nell'Assemblea legislativa con gli ottimi consiglieri regionali, vuoi con gli esponenti di giunta dell'esecutivo Chiuto che straordinariamente svolgono un lavoro veramente determinante. Garantire la sicurezza dei cittadini e delle attività economiche attraverso l'implementazione dei sistemi di videosorveglianza nei quartieri periferici di Catanzaro e di La Mezzia Terme, con le risorse messe a disposizione dal Ministero dell'Interno, in via di definizione e specificatamente destinati alla Calabria grazie alla sensibilità del Ministro Matteo Piantedosi e l'obiettivo del piano di potenziamento degli apparati di videosorveglianza per il controllo del territorio, di cui si è discusso nel corso del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunito in Prefettura a Catanzaro, alla presenza del sottosegretario all'interno Vandaferro. Alla riunione presieduta dal Prefetto Enrico Ricci hanno preso parte anche i vertici provinciali delle forze dell'Ordine e i sindaci di Catanzaro, Nicola Fiorita, e di La Mezzia Terme, Paolo Mascaro, insieme ai comandanti delle polizie locali dei due comuni. È stato presentato alla cittadella regionale di Catanzaro da Lega Ambiente l'ultimo dossier dei comuni ricicloni. La Calabria raggiunge il 54,6% di raccolta differenziata rispetto alle altre regioni italiane. C'è molto da fare, soprattutto noi abbiamo i dati anche calabresi che sono disallineati. Abbiamo la provincia di Cosenza e di Catanzaro che hanno percentuali abbastanza alte, superiamo il 60%, mentre ancora siamo un po' fermi su Reggio Calabria e su Crotone. Cose che ovviamente tendiamo non solo ad allineare i dati fra le province, ma soprattutto puntiamo ad aumentare la percentuale di raccolta differenziata su tutto il territorio regionale. Abbiamo ovviamente due elementi che ci consentono di raggiungere questi risultati. Il primo elemento è che è in fase di approvazione del piano regionale dei rifiuti, cosa che è già avvenuto con l'approvazione da parte della Giunta regionale lo scorso mese di dicembre ed è all'esame del Consiglio regionale per la protezione finale. Credo che è l'ordine del giorno per il 14 di questo mese. Quindi approvare il piano dei rifiuti significa strutturare poi un percorso tecnico e amministrativo che ci consente di raggiungere, come dicevo, oltre agli altri aspetti, anche al zale percentuale del riciclaggio. Una seconda operazione è quella di programmare interventi finanziari finalizzati a ciò. Cosa diciamo nota a tutti è che la regione Canabia ha già fermato l'accordo per l'utilizzo dei fondi di coesione, cosa che noi all'interno di essa abbiamo apportato risorse finanziarie importanti per fare che cosa? La prima è per cercare di invogliare i comuni attraverso dei finanziamenti mirati ad aumentare l'attività del riciclaggio. La seconda è di avviare una forte azione, diciamo, di comunicazione verso la cittadinanza e verso i comuni stessi, puntando anche a un ragionamento di educazione ambientale finalizzato ovviamente a raggiungere questo obiettivo. I dati che emergono dal dossier Recomuni di cicloni ci dimostrano che la transizione ecologica in Calabria procede ma in maniera molto lenta. Possiamo dire che dal 2018 ad oggi c'è un incremento costante nella raccolta differenziata. Attualmente, sto parlando di dati 2022 perché sono i dati presi appunto in considerazione dal nostro ultimo dossier, la Calabria raggiunge il 54,6% complessivo su tutta la regione contro una media nazionale che ormai supera il 65%, il 65,2% esattamente. Quindi appunto cresciamo, cresciamo progressivamente di 1,5-2 punti percentuali l'anno ma siamo ancora lontani da quelli che sono gli obiettivi previsti dalla normativa comunitaria che ormai sono molto sfidanti, prevedendo già nell'anno prossimo, quindi al 2025, una percentuale di riciclaggio, quindi non più di raccolta differenziata che dovrà raggiungere il 55%. Nel contempo i rifiuti portati in discarica dovranno avere una progressiva diminuzione, quindi fino a raggiungere un massimo del 10% dei rifiuti urbani prodotti. Quindi alla luce di tutto questo noi ribadiamo l'esigenza di passare da quelle che sono le parole chiave di un'economia lineare alle parole chiave dell'economia circolare, quindi in primo luogo ridurre i rifiuti alla fonte, riusare e poi riciclare perché in tutta la regione Calabria servono gli impianti per la filiera del riciclo, impianti tecnologicamente avanzati. I progressi diciamo che negli anni la Calabria li ha avuti, bisogna puntare su quelle aree che c'è una alta densità, Vedireggio, Crotone, Rossano Curigliano, se su questi ci sarà un avanzamento della differenziata incide sul parametro regionale e quindi di auspicio insomma ecco che si attivi un meccanismo virtuoso anche per quelle aree. Presentato presso l'Istituto di Criminologia di Vibo Valencia il progetto di intelligenza artificiale che servirà a velocizzare il lavoro di ricerca di informazioni di inquirenti e forse dell'ordine. È stato presentato presso l'Istituto di Criminologia di Vibo Valencia un nuovo progetto di intelligenza artificiale che dopo aver superato un periodo di prova in questura servirà a velocizzare il lavoro di interconnessione dati e ricerca di informazioni sia da parte delle forze dell'ordine che degli organi inquilenti. A svilupparlo Michele Laurelli docente di informatica e intelligenza artificiale presso lo stesso istituto. L'obiettivo del progetto è di sfruttare le funzionalità dell'intelligenza artificiale quindi tutti gli strumenti disponibili ad oggi per facilitare la ricerca documentale nell'ambito delle indagini e in generale della gestione dei documenti della questura. Il software finale ci ha permesso di fare ricerca e sviluppo nell'ambito proprio dell'operatività quotidiana della questura soprattutto nell'ambito di ritrovare informazioni e connessioni spesso non evidenti quindi nascoste tra le informazioni e i documenti della questura che sono ovviamente tantissimi quindi nell'ambito di una singola indagine magari si trovano centinaia di migliaia di documenti ognuno di questi molto ampi. Per ritrovare informazioni quindi sapere dei dettagli tra le connessioni tra persone o tra persone e aziende o istituzioni ci serve qualcosa di più di un motore di ricerca e qui abbiamo utilizzato strumenti di intelligenza artificiale come l'elaborazione del linguaggio naturale oppure la ricerca con similarità semantica, tutti strumenti che ci permettono di elaborare il linguaggio non solo come parole chiave come siamo abituati a fare ma anche diciamo con qualcosa in più tra le righe e quindi capire il significato delle parole che leggiamo. Chi lo utilizza deve avere una profonda conoscenza della sua professione che in questo caso è quella dell'indagine in generale. Questa attività ovviamente va fatta con senno perché se non si fa la domanda giusta non si attiene la risposta giusta e questa non è solo retorica in realtà ma l'abbiamo proprio visto nello sperimentare. è un progetto innovativo e grazie all'istituto di criminologia di Vibo Valenza e dal professore Fortunato, dal professore Laurelli che l'ha elaborato a livello tecnico e pure ai nostri tecnici è sicuramente un sistema che ci permetterà a livello di investigazioni, a livello di informazioni necessarie per la polizia di prevenzione, per la polizia amministrativa di elaborare tutta una serie di notizie che possono servire per poi elaborare documenti e metterci molto meno tempo nella nostra attività. Come si può integrare con gli altri sistemi di intelligenza artificiale che già la polizia o comunque le forze dell'ordine non utilizzano? Diciamo che questo è un sistema che va ad elaborare e a ragionare su documenti che l'investigatore però deve già conoscere e deve inserire, quindi è importante la presenza della persona che conosce e che inserisce la documentazione perché se no il rischio è che sia le domande sia le risposte non siano adeguate a quello a cui servono le cose. Dall'altra parte è un sistema che permette di integrare anche notizie che stanno in altre banche dati e permettere quindi di avere una situazione molto più ampia e avere risposte più concrete. L'intelligenza artificiale rappresenta il futuro in tutti i campi, anche nel campo delle investigazioni. e questo progetto riguarda soprattutto l'utilizzo dei dati per la redazione di provvedimenti è qualcosa che già viene sperimentato anche nel campo della giustizia, nella redazione delle sentenze e sarà sempre più utilizzato al servizio dell'uomo. Ovviamente molto dipende da come verrà implementata, da come verrà sviluppata, dalle chiavi di ricerca e man mano che verrà utilizzata io penso che offrirà grandi spunti e soprattutto ci consentirà di abbreviare i tempi della giustizia, soprattutto nelle operazioni con tantissima mole di dati da mettere a sistema. Il prossimo 10 marzo sarà inaugurata la ciclo pedonale Val di Neto, si tratta di una particolare unica strada per biciclette pedoni lunga 38 km, realizzata da sei comuni della Valle del Neto, Rocca di Neto che è capofilla, Scandale, Strongoli, Belvedere Spinello, Santa Severina e Caccuri. Si tratta di un percorso identitario alla scoperta dei comuni bagnati dal fiume Neto, sette comuni insieme alla scoperta della Valle del Neto in bicicletta, la ciclo pedonale fidanziata dalla regione Calabria si estende per 38 km attraversando il cuore del Marchesato e collegando i comuni crotonesi di Caccuri, Belvedere di Spinello, Santa Severina, Rocca di Neto, Scandale, e Strongoli facendo apprezzare al ciclo turista il meraviglioso patrimonio storico, archeologico e religioso che contraddistingue la provincia di Crotone con i suoi castelli, le grotte rupestri, i santuari, gli eremi. Verrà inaugurata domenica 10 marzo dal ponte di Corazzo e sul ponte di Santa Severina. Posto da adottare intanto, da tutelare, da proteggere perché molte volte lo stato di abbandono ha sempre avuto la meglio invece sull'organizzazione, su quanto può essere importante una pista come questa ciclopista che è quasi 37 km, quindi è un percorso abbastanza lungo per poter richiamare l'attenzione di amatori di camminate oppure di amatori del ciclismo perché comunque consente di avere degli spazi ampi anche con delle soste per fermarsi, osservare, guardare e un po' racchiude l'aspetto storico, culturale, naturalistico, paesaggistico, c'è un po' di tutto, quindi credo che un ottento osservatore e i bambini lo sono, per esempio credo anche dal punto di vista scolastico possa essere utile un po' rivedere quello che è anche un aspetto storico, quest'anno sono 180 anni dallo sbarco dei fratelli Bandiera alla focia del fiume Neto e lo sappiamo, molte volte sono stati un po' immarginati dalla storia ma credo che il sacrificio di questi fratelli poi sia servito anche a creare le premesse per unire l'Italia. Ecco io devo ringraziare i colleghi sindaci, la Regione, il settore parchi, il dottor Aramini, l'ingegnere Siviglia, i progettisti, l'impresa che ha realizzato i lavori perché credo che sia stato fatto un lavoro estremamente importante in poco tempo con bassi costi, come diceva, con un bassissimo impatto ambientale, quindi significa aver dato al territorio il giusto valore senza violentarlo con delle situazioni che poco hanno a che fare con l'aspetto naturalistico perché questo fiume è una zona di protezione speciale, gran parte del suo percorso, è un sito di interesse comunitario, quindi ci sono credo delle condizioni estremamente favorevoli per sviluppare vari turismi che non è soltanto quello dell'aspetto estetico ma proprio della fruibilità, quindi fare una passeggiata, fare rafting, fare avvistamenti, credo sia qualcosa da vedere. Noi adesso lo promuoviamo perché ci sia questa titolarità da parte di tutti noi di considerarlo un posto che ci appartiene. Si sono conclusi i lavori del primo lotto del progetto per la riqualificazione e adeguamento del porto delle Grazie, situato a Rocella Ionica nel Regino. Si sono conclusi con successo i lavori del primo lotto del progetto di riqualificazione e adeguamento del porto delle Grazie di Rocella Ionica. Questo importante intervento ha visto la partecipazione attiva dell'azienda da scienzi Pavimenti Italiani che ha fornito oltre 4.000 metri quadri di massello compatto grezzo 20x40 personalizzato nella variante di colore Creta. Il servizio fotografico dei lavori completati è stato pubblicato sul portale internet www.dascenzi.it mostrando la trasformazione della struttura portuale roccellese. La soddisfazione è palpabile per il responsabile unico del procedimento e direttore dei lavori, l'ingegnere Lorenzo Urace e anche dell'assessore lavori pubblici Francesco Scali. Il porto delle Grazie diventa esempio nazionale per chi sceglie da scienzi a tal punto da essere preso come riferimento. Questo progetto non solo migliorerà l'aspetto estetico del porto ma contribuirà anche a potenziare le sue funzionalità e a renderlo un punto di riferimento per la comunità locale ma anche per i visitatori che provengono dal mare. La collaborazione tra le autorità locali e le amministrazioni e le aziende del settore diventa a questo punto fondamentale per promuovere lo sviluppo e la crescita di questo territorio. Termina qui la nostra informazione. Grazie per averci seguito. Grazie.